Questo è un test in verticale della Sony ZV-1F su Dark Vanities. Stiamo usando il trappiede della Newware, tanti filtri creativi e la luce. Bello alfaretto RGB. Accendiamo luci rosse. E adesso RGB. Passiamo dalla modalità di focus al clear. In un colpo. Clear, 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 clear. De-focus. Togliamo la luce. Oh, non mi si vede più. Ora mi si vede più. Bello, bello, bello. Clear. Clear. De-focus. De-focus. See? Bello, bello.